Siamo con Sara Sgarzi, stella del nuoto sincronizzato bolognese, già alle prese con gli allenamenti che durante l'anno non finiscono mai. No, mai veramente, tra un po' non ci torniamo neanche l'estate. Che cosa stai preparando adesso, quali sono i prossimi impegni tuoi e della nazionale, perché sei stabilmente nella nazionale italiana di sincronizzato. Sì, allora i prossimi impegni con la nazionale sono il Finatrofica, una gara artistica che si terrà in Cina a dicembre. E poi con la società ci sono i nazionali che saranno a Novara a febbraio e parteciperò sia con il Bologna che con le Fiamme Oro. E poi la gara più importante di quest'anno è comunque la qualifica olimpica che sarà ad aprile. Diciamo che speriamo di partecipare alle olimpiadi, ancora appunto la qualifica non l'abbiamo fatta, quindi non è sicuro. E' anche molto difficile anzi, perché comunque ci giochiamo un posto in tre nazioni e siamo tre nazioni tutte molto forti. Quindi noi faremo il possibile. Quali sono le nazionali più agguerrite, quelle che temi di più, quelle che potrebbero rubare un posto all'Italia? Il posto all'Olimpiadi noi ce lo giochiamo con l'Ucraina e con il Giappone. Agli scorsi mondiali sono arrivate prima noi entrambe, anche se non di tanto, quindi abbiamo da lavorare molto. La solita Ucraina? Sì. Tu ormai nella nazionale di sincronizzato sei una delle atlete più esperte, possiamo dire così. Come vedi il movimento del nuoto sincronizzato? Ci sono giovani nuove leve che vengono su oppure è ancora un gruppo stabile e su quello bisogna puntare fino a Londra? Delle nuove ce ne sono che sono forti, però comunque il mio gruppo, avendo molta esperienza in più, è molto forte e anche molto affiatato. Quindi per adesso si punta su di noi, poi per il futuro si vedrà. Prima abbiamo parlato del movimento nazionale, ora parliamo di quello bolognese. Tu ti alleni qui, ci sono ragazze giovani che seguono le tue orme. C'è una nuova Sarasgardi già qui a Bologna? Adesso il movimento a Bologna è sempre stato molto ristretto rispetto alle altre città, però devo dire che sta migliorando molto. Non ce n'è ancora una in particolare che spicchi, però ci sta creando un bel gruppo di ragazze giovani e speriamo che possano avere dei buoni risultati perché stanno migliorando molto. Grazie